Chi odia paga aderisce a Repubblica Digitale, l'impegno del governo contro l'odio online. Parliamo di questo su Evolve con me, io sono Elena. Anche Chi odia paga la realtà nata nel 2018 partecipa a Repubblica Digitale, il progetto promosso dal governo italiano nell'ambito dell'inclusione digitale. Contrastare ogni forma dell'odio online. E' questa la vocazione sociale dell'innovativa piattaforma, dal cyberbullismo allo stalking, allo revenge porn, allo hate speech, come anche la diffamazione online. Come riporta una ricerca di Doxa Kids, circa il 6% dei ragazzi tra i 9 e i 17 anni denuncia di essere stato vittima di cyberbullismo. Invece, dai dati Vox Diritti emerge che in Italia gli utenti postano un tweet al minuto contenente contenuti legati al razzismo, insulti sulla disabilità, misoginia, islamofobia, omofobia ed antisemitismo. Obiettivo è fornire un'assistenza legale per difendersi dagli haters. Come? Grazie ad una piattaforma online facilmente fruibile da tutti quanti e in grado di fornire una risposta veramente rapida. Grazie ad una piattaforma online facilmente fruibile da tutti quanti